Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Dipendente pubblico della provincia di Pesero operava sui mercati finanziari senza averne requisiti gestiva abusivamente un fondo maltese per il quale è stato denunciato dalla Guardia di Finanza Due auto sono andate a fuoco la notte scorsa a Fanno e Ronco Sambaccio a poca distanza di tempo l'una dall'altra le cause però sarebbero accidentali Un giovane di 30 anni tenta di farla finita sotto un treno alla stazione di Fanno ma viene salvato da due donne tra cui il direttore generale dell'azienda Marche Nord, Maria Capalbo Altre 21 persone trovate positive al test del coronavirus nelle Marche che i pericoli maggiori sono i casi di rientro dall'estero e i contagi tra familiari E il sindaco di Fanno Massimo Seri firma un'ordinanza che obbliga l'uso della mascherina nei prossimi tre fine settimana, dal venerdì alla domenica, dalle 18 alle 6 Presentati da Matteo Salvini, candidati della Lega soddisfazione per i due fanesi Mirko Carloni e Luca Serfilippi che figurano tra i sette nomi in lista per la provincia di Pesero e Unvino Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia Ci sono stati momenti di apprensione, di paura questa mattina alla stazione ferroviaria di Fanno dove un giovane di 30 anni aveva deciso di togliersi la vita sedendosi sul binario 3 in attesa dell'arrivo del treno Forse si è trattato di un momento di depressione per la mancanza di lavoro ma alla fine è stato convinto ad esistere da due donne che stavano aspettando il treno A notare il trentenne seduto sui binari attorno alle 7.45 sono state la direttrice generale dell'azienda ospedaliera Marche Nord, Maria Capalbo e un'avvocatessa che stavano attendendo il convoglio per raggiungere Ancona Le due lo hanno richiamato a gran voce invitandolo a togliersi da lì in quanto il treno stava per raggiungere alla stazione visto che l'uomo però non ne voleva sapere la manager sanitaria si è assicurata che non ci fosse alcun treno in arrivo e l'ha raggiunto e riportato sulla banchina Ai poliziotti del commissariato di Fanno il trentenne ha raccontato di essere depresso per il fatto di non avere un lavoro il giovane ha accettato poi nel pomeriggio di farsi ricoverare in ospedale Cordoglio del sindaco di Pesero Matteo Ricci per la scomparsa di Luigi Panzieri professore e animatore di molte iniziative Un pacifista vero che si è battuto contro le disuguaglianze e per i diritti dei popoli ricorda Ricci Un professore straordinario che ha ispirato intere generazioni di studenti Tra le sue iniziative più note il sindaco ricorda l'impegno verso la città gemellata di Keita per la fondazione della bottega Eco Solidale il mercatino delle meraviglie e la valorizzazione delle opere di Massimo Dolcini Ancora cronaca, due auto sono andate a fuoco a distanza di poche ore l'una dall'altra I pompieri di Fano sono intervenuti tempestivamente per spegnere i due roghi distinti tra loro che hanno coinvolto le vetture La prima automobile, una Lancia Ypsilon, ha preso fuoco poco prima delle tre Si trovava in sosta in via Umbria nei pressi del campo sportivo in zona trave Sul posto anche gli agenti del commissariato di Fano La seconda auto invece è una Volkswagen Polo parcheggiata in strada Ronco-Sambaccio è andata in fiamme questa mattina intorno alle ore 7 La causa di entrambi i roghi, specificano i vigili del fuoco sarebbe accidentale per cause elettriche Nessun danno a persone, solamente tanta paura e mezzi distrutti La Guardia di Finanza di Pesaro ha denunciato un dipendente pubblico della provincia di Pesaro e Urbino per abusivismo L'uomo, un cinquantenne, avrebbe affittato e gestito un fondo di investimento della Repubblica di Malta svolgendo l'attività in modo illecito e percependo oltre 20.000 euro di commissioni Filippo Pucci Era appassionato di borsa e di mercati finanziari e si qualificava sui social come global advisor di un fondo di investimento collocato nella Repubblica di Malta Peccato che non era iscritto ad alcun albo ne aveva i requisiti per operare sul mercato finanziario A finire nei guai è stato un cinquantenne dipendente pubblico della provincia di Pesaro-Urbino scoperto dalle fiamme gialle di Pesaro e denunciato per il reato di abusivismo Durante l'operazione, denominata Fondo Sospetto la Guardia di Finanza ha notato anomale movimentazioni nei conti correnti da lui utilizzati con numerosi e ingenti flussi monetari in entrata e in uscita collegati ad operazioni di scambio online di criptovalute non coerenti con il profilo finanziario di un pubblico impiegato Tra il 2016 e il 2019 secondo i militari il cinquantenne avrebbe affittato il gestito il Fondo Maltese offrendo servizi e attività di investimento anche per conto terzi il tutto in modo abusivo perché è privo di requisiti prescritti dalla legge L'uomo ha anche percepito oltre 20.000 euro di fee ovvero commissioni di performance per i risultati conseguiti basati sul rendimento annuo Il denaro percepito è stato sottoposto sequestro preventivo come provento del reato Perquisizioni domiciliari in Puglia Campania, Marche e Lazio nei confronti di otto indagati sono state eseguite dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Bari nell'ambito dell'inchiesta sulla pirateria digitale di beni tutelati dal diritto d'autore L'indagine è stata avviata ad aprile dopo la denuncia di FIEG e AGICOM La frode si stima che causerebbe al solo settore dell'editoria danni per circa 670.000 euro al giorno 250 milioni di euro all'anno Fino ad oggi sono stati sequestrati bloccati più di 300 canali telegram sui quali venivano illecitamente diffusi migliaia di pdf di giornali romanzi e testi universitari Sono 21 i casi di positività al coronavirus registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore 20 nel percorso nuove diagnosi e uno nel percorso screening per il focolaio di Monte Copiolo Lo fa sapere il Gores Nell'ultima giornata sono stati eseguiti oltre 1000 tamponi I positivi sono 20 nel percorso nuove diagnosi 12 della provincia di Pesor Urbino 5 in quella di Macerata 1 della provincia di Ascoli Piceno e 2 provenienti da fuori regione Questi casi comprendono rientri dall'estero operatori sanitari contatti di casi positivi e casi di contatto domestico Nel percorso screening Monte Copiolo sono stati effettuati due tamponi ed è stato registrato un caso positivo E visti gli assembramenti che si stanno verificando anche nel Comune di Fano sia nel Centro Storico che nel Lungomare il Sindaco Massimo Seri ha firmato un'ordinanza con la quale dispone l'obbligo di indossare la mascherina nei prossimi tre fine settimana dal venerdì alla domenica dalle ore 18 alle ore 6 L'obbligo dovrà essere rispettato soltanto nel Centro Storico e nella zona compresa tra la Battigia e la linea ferroviaria Sono esclusi i bambini di età inferiore ai 6 anni le persone con disabilità non compatibile con l'uso continuativo della mascherina e chi svolge attività sportiva e motoria diversa dalla comune passeggiata In caso di violazione si rischiano sanzioni dai 400 ai 3.000 euro E Piazza Gremita a Pesaro per la serata dedicata in ricordo delle vittime del Covid-19 omaggiate dall'Opera Petite Mess Solenel del Rossini Opera Festival Francesco Salvago Un minuto di silenzio anticipato l'inizio dell'opera in Piazza del Popolo a Pesaro per un momento di ricordo per le vittime del Covid sulle note di Rossini l'appetite messe solenelle l'ultimo capolavoro sacro del Cigno Un grande riconoscimento alle centinaia di persone scomparse a causa del coronavirus che hanno lasciato un dolore incredibile così ha detto il sindaco Matteo Ricci sul palco che ha ospitato parte della 41esima edizione del Rossini Opera Festival Le cose più strazianti continua sono stati i messaggi le telefonate dei familiari delle vittime che non hanno potuto nemmeno salutare i propri cari e fare loro il funerale Noi siamo stati purtroppo travolti dal dolore travolti dal dolore tante vittime una mortalità incredibile tante persone che sono state male e devo dire che questo dolore è stato molto rumoroso Una serata dedicata alla memoria ma anche un tributo per coloro che hanno salvato altrettante vite garantendo il diritto alla salute infermieri e medici straordinari bisogna tenere ancora alta la guardia ma siamo consapevoli che dobbiamo rinascere Pesaro ha scelto di farlo dalla cultura dal cinema dal teatro e dalla musica Pesaro riparte dal Rossini Opera Festival Non avremmo mai pensato di organizzare un ROF in questa maniera con i distanziamenti sociali di nuovo all'aperto ma l'abbiamo fatto perché dovevamo ripartire una città come la nostra non poteva che farlo dalla cultura sarà un anno di sperimentazione ha detto ancora Ricci ricordando anche gli appuntamenti rossignani invernali una manifestazione bellissima con un grande programma che si snoderà tra il teatro e piazza del popolo Ad assistere alla serata anteprima del festival che inizierà ufficialmente sabato 8 agosto anche la senatrice Liliana Segre insieme a Ricci anche il presidente della regione Ceriscioli il sovraintendente Roff Palaccio e il presidente e vice sindaco Daniele Vimini Lo signo per la festival ha dato questo segnale importante ieri sera e continuerà a darlo con il tenersi del festival tra la piazza del popolo e lì siamo ora e la festa piazza e lo signo per la festival e la pesaro viene con forza anche alla ripartenza della cultura italiana e anche al lavoro di tantissimi artisti ma anche tantissimi tecnici e operatori del mondo dello spettacolo che per tanti mesi dal famoso 28 di febbraio sono stati senza lavoro e adesso parliamo di solidarietà 400 pasti da sporto in soli 5 giorni grazie a 23 volontari con una media di 8 presenze al giorno sono i dati diffusi oggi dalla Diocesi di Fano che grazie al supporto del Vescovo Trasarti dal 3 agosto scorso organizza la mensa a sostengo per aiutare le persone in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria questi giorni decisamente intensi si legge in una nota della Diocesi hanno fatto toccare con mano come il Covid abbia aggravato la situazione di povertà già presenti nel nostro territorio e dall'emergenza economica a quella sanitaria una nuova elisuperficie sorgerà nel comune di Monte Copiolo la giunta regionale delle Marche ha stanziato 14.000 euro per un'infrastruttura strategica dedicata ai servizi di emergenza sanitaria e di protezione civile nell'intero territorio del Monte Feltro le risorse del bilancio regionale serviranno al comune per acquisire il terreno individuato in un'area ritenuta idonea dai tecnici del gruppo REM che ne hanno valutato la fattibilità anche aeronautica la nuova elisuperficie si legge in una nota potrà garantire un netto miglioramento dei servizi di soccorso per un intero territorio già fortemente penalizzato dal punto di vista della viabilità e adesso apriamo la pagina politica ieri sera a Macerata sono stati presentati i candidati consiglieri della Lega in occasione del tour di Matteo Salvini soddisfatti i due fanesi Mirko Carloni e Luca Serfilippi tra i sette nomi in lista per la provincia di Pesaro e Urbino Simona Zonghetti Le Marche hanno voglia di cambiare e lo hanno urlato forte in una piazza a Mazzini stracolma a Macerata è il commento della Lega Marche dopo la visita di Matteo Salvini con il commissario Riccardo Augusto Marchetti e i parlamentari locali per l'occasione sono stati presentati i candidati leghisti al Consiglio regionale e il candidato sindaco di Macerata Sandro Parcaroli ospite anche Francesco Acquaroli candidato presidente del centrodestra ad annunciare i 30 candidati delle 5 province è stato Marchetti nel telegiornale di ieri vi abbiamo mostrato un estratto della presentazione tra i sette nomi scelti per la provincia di Pesaro e Urbino rientrano due fanesi tra cui Mirko Carloni consigliere regionale docente universitario e imprenditore già vicesindaco di Fano ma ieri è un bellissimo segnale una grande emozione la piazza di Macerata così piena di tante donne e uomini che vogliono davvero un forte cambiamento in questa regione quindi il miglior segnale per iniziare gli obiettivi della Lega come ha detto ieri Salvini sono quelli di liberare questa terra di farla diventare più competitiva di riportare questa economia dove merita dove era in passato e soprattutto di dare servizi che mettano al centro gli interessi dei marchigiani e non quelli del partito che ha dominato questi anni quindi la sinistra ha portato questo territorio a impoverirsi e soprattutto a costringere tanti giovani ad andarsene in altre terre per cercare il loro futuro per trovare un lavoro questo è il segnale più brutto che noi stiamo ricevendo in questo momento quindi l'obiettivo nostro è invertire questa tendenza e ridare dignità ai marchigiani fare in modo che possano continuare a vivere in questa nostra bellissima regione riuscire a realizzare i propri sogni aprire la propria attività o trovare il proprio lavoro tra le problematiche prosegue Carloni c'è quella sanitaria bisogna togliere burocrati le asure e le arse che si sovrappongono e sono piene di funzionari amministrativi è necessario per Carloni trovare risorse per assumere medici e infermieri garantendo ai pazienti tutti i servizi l'attenzione dovrà essere rivolta anche all'economia la microimpresa che è quella che distingue il nostro territorio sta soffrendo in modo particolare per una mancanza del credito nell'indifferenza generale e soprattutto per una mancanza di norme che evitino la burocrazia la maggior parte del nostro sistema artigianale che è legato alle costruzioni alle strutturazioni vive un momento drammatico perché la burocrazia che questa regione sta mettendo in piedi in tutte le sue forme è davvero folle e per fare qualunque iniziativa privata oggi ti fanno passare la voglia in corsa per la regione anche Luca Serfilippi dipendente profig la sex assessore consigliere d'opposizione a Fano è stato mister preferenze alle ultime amministrative emozionato ma al tempo stesso determinato perché il centrodestra ha una possibilità unica di vincere e di dare un'alternativa vera e concreta al governo della nostra regione i temi sono sempre gli stessi ma importanti e dalle parole bisogna passare ai fatti perché abbiamo visto tante promesse disattese sia per quanto riguarda la costa sia per quanto riguarda l'entroterra dalla sanità dove serve una sanità pubblica vicino al cittadino e concreta quindi per ridurre la mobilità passiva fuori dalla nostra regione e ridurre anche i tempi di attesa perché le liste di attesa sono imbarazzanti e dall'altro anche per quanto riguarda il lavoro perché tanti giovani ma anche tante persone tante famiglie al di là del covid erano e saranno ancora di più senza lavoro quindi serve un programma vero di rilancio vicino alle aziende del nostro territorio e dall'altro le infrastrutture cioè io non so ho 33 anni ma da una vita sento parlare di Fano Grosseto Fano Urbino qui dalle parole bisogna passare ai fatti servono persone competenti dico anche io giovani perché è ora di svecchiare un pochettino la politica e preparate quindi che dalle parole passino ai fatti il depuratore idrico di Calcinelli nel comune di Colle al Metauro verrà potenziato e sarà in grado di raccogliere tutte le acque reflue e avrà qualità necessaria per molti anni a venire Nella sala consigliare di Saltara si è tenuta una conferenza stampa presieduta dal sindaco Stefano Aguzzi e dall'amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli oggetto dell'incontro è il progetto di potenziamento del depuratore di Calcinelli che rappresenta un modello di innovazione tecnologica e impiantistica che coniuga la maggiore capacità depurativa con la riduzione dell'impatto ambientale garantendo un contenimento delle emissioni una riduzione del rumore e dei rifiuti prodotto dall'impianto una migliore qualità delle acque in uscita del depuratore il progetto fa sapere l'amministrazione di Marche Multiservizi ha portato un investimento di 3,2 milioni di euro producendo una ricoduta importante sul tessuto socio-produttivo il depuratore di Calcinelli non è stato l'unico progetto portato avanti da Marche Multiservizi infatti solo nel 2019 l'azienda ha dedicato oltre 17 milioni di euro agli investimenti per potenziamento e miglioramento del servizio idrico integrato che ha assorbito circa il 60% degli investimenti complessivi un depuratore che oggi ha 5 mila abitanti equivalenti di capacità depurativa lo porteremo con un intervento che vale circa 3 milioni e 2 lo porteremo a 9 mila abitanti equivalenti e ci consentirà di chiudere gli attuali depuratori di tavernelle e guazzi e questo intervento ci consentirà in questa area territoriale di potenziare la depurazione renderlo più fruibile per tutto il territorio e soprattutto migliorare quella che è la capacità depurativa ma anche collettare di più i reflui che attualmente ci sono rispetto all'attuale sarà modernato sia dal punto di vista della capacità e quindi della potenzialità ma soprattutto attraverso le nuove tecnologie che sono le membrane che sono gli UV conseguentemente diciamo sono interventi che ci consentiranno di guardare avanti anche dal punto di vista dell'uso intelligente dell'energia soddisfatto il primo cittadino di Colli al Metauro che ha sottolineato che grazie a questo importante progetto si avrà la potenzialità e qualità necessaria per il futuro ma qui parliamo non solo di un miglioramento ambientale ma proprio della potenzialità di questo territorio anche in futuro di ospitare nuove imprenditorie nuovi insediamenti che fino ad oggi erano quasi impossibili proprio legati a queste difficoltà che sono state appena illustrate quindi un plauso a Marche Multiservizi ma un lavoro di concerto con l'amministrazione comunale che ovviamente in questi tre anni ha fortemente richiesto questo intervento che finalmente vedrà la luce e rimaniamo accogli al Metauro perché il Comune ha stanziato 104 mila euro per aiutare le attività commerciali più colpite dalla crisi economica le somme andranno a ridurre del 25% la tariffa variabile della Tari 2020 che sarà calcolata in automatico nella prossima bolletta per le attività chiuse dal decreto ministeriale il Comune è già in possesso di questi dati mentre per le restanti categorie sarà necessario presentare una dichiarazione che attesta la chiusura per un periodo di almeno 4 settimane in questo caso lo sconto verrà calcolato nella bolletta emessa a saldo inoltre saranno concessi ulteriori contributi su IMU Imposta Comunale sulla Pubblicità e affitti per attività commerciali e produttive attraverso un bando che sarà pubblicato entro il mese di settembre oggi in Prefettura a Pesaro è stato sottoscritto il rinnovo del protocollo d'intesa per il recupero del Palazzo Ducale di Urbino con l'obiettivo di realizzare la nuova questura è stata prevista anche una integrazione dell'intervento che riguarda gli alloggi collettivi e l'alloggio per il questore dopo le verifiche di vulnerabilità sismica e di fattibilità tecnico-economica si passerà alla redazione del progetto definitivo la gara pubblica e l'affidamento dei lavori potranno avvenire nel secondo semestre del prossimo anno seguiranno l'esecuzione e il collaudo delle opere entro il 2022 e adesso apriamo la pagina degli eventi questa mattina è stata presentata la rassegna musicale che trasformerà il Rashtat di Fano in un teatro a cielo aperto dal 13 al 22 agosto decine di artisti si alterneranno sul palcoscenico naturale della Sassonia per garantire spettacoli a 330 persone ogni serata si chiama Eluce Malle Stelle titolo ripreso dalla celebre opera di Puccini e dalla grande rassegna musicale pensata dal comune di Fano per dare luce ad un periodo buio e dare spazio alle tante realtà locali che hanno dovuto annullare gli eventi a causa della pandemia per dieci serate gli artisti avranno così la possibilità di tornare ad esibirsi di fronte al pubblico nel palcoscenico naturale del lungomare di Sassonia il tutto nel rispetto delle norme anti-covid innanzitutto devo dire che il progetto Fano Plenair sta funzionando molto bene quindi questa idea di città che vive a cielo aperto con tutti i contenitori culturali che hanno preso forma e sostanza con gli eventi sta funzionando molto bene un ulteriore step l'abbiamo fatto con i mercoledì degli artisti in collaborazione con i locali gli artisti della città ora un ulteriore step lo facciamo nella zona mare con un progetto che si chiama Lucevanle Stelle dove l'anfiteatro Arrastat si trasformerà in una bellissima area a spettacoli ci saranno una decina di spettacoli che saranno veramente molto interessanti e daranno valore ai nostri contesti culturali e alle associazioni della città si partirà il 13 agosto con Qui dove il mare lucica con la band Piazza Grande e Iskra Menarini che si esibiranno in un tributo a Lucio Dalla venerdì 14 evento speciale dell'orchestra Sinfonica Rossini che porterà in scena un omaggio a Morricone con la partecipazione straordinaria del direttore artistico Daniele Agiman sabato 15 invece il re del pop sbarcherà a Sassonia grazie alla tribute band Jackson One che farà rivivere l'indimenticato Michael Jackson frontman Roy Paladini ha detta della critica la voce italiana più simile all'originale il 16 e il 17 poi si farà un tuffo nel passato con le serate medievali a cura del gruppo storico La Pandolfaccia il 19 sarà il turno del coro una scuola tra le note che si esibirà per la prima volta dopo il lockdown mentre per venerdì 20 in programma un viaggio tra la musica con i The Best Of che porteranno in scena i più grandi successi dagli anni 50 ad oggi questo è il programma attuale le serate non sono finite potranno prendere forma anche altre attività in collaborazione con le tante associazioni e quindi uno spazio da poter far vivere ai turisti che in agosto finalmente arrivano nella città di Fano e quindi un momento anche d'accoglienza per loro e la possibilità di esibirsi a tutte le associazioni della città di Fano l'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la Proloco di Fano la Fondazione Teatro della Fortuna l'Orchestra Sinfonica Rossini e con il supporto degli istituti bancari Creval e BCC ogni sera saranno 330 le persone che potranno assistere agli spettacoli ad un costo simbolico che si aggira tra i 2 e i 3 euro ad eccetto della serata dedicata al maestro Morricone che costerà 10 euro per tutti gli show è possibile acquistare un biglietto su live ticket.it ma sul posto sarà comunque presente una biglietteria che li venderà fino ad esaurimento dei posti disponibili Dobbiamo strutturare tutto il Rastat ovviamente come sapete il Rastat è una zona libera aperta quindi non è possibile in questo momento in questo periodo poter organizzare qualcosa quindi noi della Proloco strutturiamo metteremo sedie organizziamo tutto ciò che riguarda l'ingresso e il distanziamento sociale per poter permettere a tutte le persone che vorranno partecipare a questi bellissimi eventi di poter partecipare in totale sicurezza e comunque divertirsi Ieri invece sono stati presentati gli eventi organizzati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano le iniziative prenderanno il via domani a Palazzo Bracci Pagani con l'inaugurazione della mostra di Ubaldo Bartolini Arte e Musica concerti d'agosto è una mostra di Ubaldo Bartolini che segue quella di Giuseppe Papagni sono state presentate ieri le iniziative organizzate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano che prenderanno il via domani a Palazzo Bracci Pagani con una mostra dell'artista marchigiano verranno esposti i suoi lavori dedicati ai paesaggi rappresentativi del periodo che va dalla fine degli anni 60 ad oggi Sì, sulla scia dell'ormai consueta rappresentazione di mostre presso la nostra Diana Gallery Palazzo Bracci Pagani anche quest'anno nonostante la situazione vogliamo essere presenti con una mostra importante con un nostro conterraneo un nostro marchigiano Ubaldo Bartolini e quindi dal sabato ci sarà l'inaugurazione alle ore 18 di questa mostra importante che rimarrà aperta fino alla fine di settembre La fondazione che a causa dell'emergenza sanitaria ha dovuto annullare il programma delle domeniche al San Domenico ha deciso di proporne uno alternativo sempre dedicato all'arte e alla musica In tutte le iniziative compresa la mostra di Bartolini l'ingresso sarà libero ma nel rispetto delle norme anti-covid l'accesso sarà consentito ad un numero limitato di persone per garantire il distanziamento interpersonale Nel mese di agosto siamo presenti con tre concerti nelle domeniche del 9 del 23 e del 30 di agosto quest'anno ci sarà anche la seconda rassegna di arte e musica nelle serate di sabato di sabato 22 agosto e di sabato 29 agosto sabato 22 agosto ci sarà il professor Rodolfo Battistini che parlerà del sodalizio della Vergine del Guercino e il musicista Perrucci suonerà alcuni pezzi con l'organo e invece il 29 di agosto il nostro consigliere è il dottor Claudio Giardini ci parlerà del miracolo del pane dei pesci del guerrieri e ci saranno due musicisti Caterina Bartoletti e Matteo Ottaviani L'orario è alle 21 e 15 inizieranno le rappresentazioni I migliori prodotti enogastronomici del territorio nuove attività ristorative musica e le stelle che risplendono nella notte più luminosa dell'anno da godersi dal planetario del Museo del Balì sono questi i protagonisti di Stelle d'Argento l'evento che esiterà mercoledì 12 agosto a partire dalle ore 19 nello storico borgo di Cartoceto per tutta la serata sarà possibile degustare le eccellenze locali durante gli apericena e nei piatti pensati ad hoc dalle attività che hanno aderito a questa iniziativa per consentire il rispetto delle norme anti-covid la prenotazione è obbligatoria sia per cenare nei ristoranti che per entrare al Museo del Balì qualora si volesse proseguire la serata con la visita del planetario e vi ricordiamo che questa sera all'Arena BCC di Fano nell'ambito dell'iniziativa Teatro Sotto le Stelle a Tre Ponti salirà sul palco dalle 21.30 la compagnia dialettale del GAF e a seguire dopo il nostro telegiornale uno speciale video sui lavori di restauro della chiesa della Madonna delle Grazie a Pesaro ed è tutto grazie per averci seguito l'appuntamento con l'informazione e domani mattina alle 7 in diretta con la Rassegna Stampa arrivederci a Pesaro a Pesaro a Pesaro a Pesaro Grazie a tutti